Eccoci qua ritrovati in questo primissimo vlog, oggi vi parlerò di questo canale Farò due video al giorno di GTA V Online per PS4 Tre video a settimana di Minecraft E alcune volte capiterà una serie lunga di Crash of Clans, di un Rotomax tutti a caotto E vai passi, allora Io sono Mattia, sono un amico di Francesco E uscivo anch'io in alcuni video E quindi il TH8 comunque è il mio account E alle volte lo abbiamo anche con il suo account TH7 al PC E faremo anche una serie di Crash of Clans dall'inizio Anche di Minecraft Anche di Minecraft ma non proprio dall'inizio Da una buona parte che sarebbe un TH4 un po' maxato E questo qua è tutto sul canale Spero che il video e che il vlog vi piaccia E iscrivetevi al canale Punt e basta Ciao a tutti ragazzi Ciao bella